Siamo italiani? Sì. Ah, siamo italiani grandi. 100 milioni di follower. 1,3 milioni. Fa bel lavoro. Adesso sto cominciando, ho sempre trascurato Facebook, ma adesso sto andando anche lì. Ho già 10 mila followers, adesso ho cominciato su Facebook. Sì. Mi alzo le 2 del mattina per andare a filmare il panettorio. No, mi stia sperando. Come diceva mia madre, è meglio che lavorare per del zero. Eh? Come diceva mia madre, è meglio che lavorare per del zero. Così, no. Come diceva mia madre, è meglio che lavorare per del zero. Beh? Come diceva? Come diceva mia madre. Come diceva mia madre. equipment. Mozzarello, crema di botta di tartufo Sassi, La Cappellate La 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 un po' 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 un Grazie 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 Grazie